Venerdì scorso c'è stato il consiglio comunale monotematico sulla sanità, la presenza del presidente Ceriscioli, solo che purtroppo al momento del dibattito il presidente ha pensato bene di lasciare la seduta, noi del Movimento 5 Stelle l'abbiamo seguito in segno di protesta, però il giorno dopo quello che doveva essere il senso dei nostri interventi l'abbiamo messo nero su bianco e abbiamo inviato via PEC una mail al presidente in forma di lettera aperta, è una lettera abbastanza lunga e complessa però che al cuore ha due questioni che sono le due questioni che secondo noi sono le più importanti per fare dire no al progetto di riforma della sanità portato avanti dal PD. Innanzitutto siamo contrari al depotenziamento del Santa Croce messo in atto e quasi realizzato e siamo anche contrari all'ingresso del privato in sostituzione dei servizi sanitari pubblici. Finalmente ieri c'è stata data la possibilità ai consiglieri di leggere questo protocollo che dovrà essere sottoscritto dal sindaco e dal presidente della regione e da questo protocollo sono emerse tutte le nostre, che tutte le nostre preoccupazioni purtroppo sono fondate e soprattutto che lo slogan che il sindaco porta avanti da tempo, da qualche giorno, cioè che Fano da zero passerà ad avere due ospedali è uno slogan assolutamente vuoto ed infondato. Infatti assommando i reparti che resisteranno dopo l'apertura dell'ospedale unico di Muraglia a Santa Croce con quelli della fantomatica clinica di Chiaruccia non avremo neanche un ospedale di primo livello che quello che abbiamo chiesto in consiglio comunale purtroppo la mozione è stata bocciata e speriamo che i cittadini non credano agli slogan elettorali e che voti in maniera consapevole le prossime elezioni amministrative e soprattutto quelle regionali.